a meria radio presenta il pianoforte buonasera e benvenuti a il pianoforte questa sera in programma di franz schubert dry clavin stuc di 946 allegro assai andante allegretto li stesso tempo allegro seguirà di claude debussy dai preludi per pianoforte il primo libro vele e quello che ha visto il vento dell'ovest proseguiremo con franz liszt il mefisto waltzer la trascrizione per pianoforte dal fausti di leno nella prima versione allegro vivace per concludere con marc andrea amelin toccata on l'homme armé molto movimentato ansioso ma non senza nobiltà al pianoforte reichel schwan iscriviti al canale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti